iniziamo dalla flop proprio da lei anche per chiudere in bellezza dalla merdaccia di no in effetti detta così sembrava povero Andros sembrava un po' ma no ma figuratevi l'argomento ma certo è l'argomento quindi è la terz'ultima posizione delle nostre ideali classifiche la medaglia di bronzo della palta signor Andros se vuole apra pure le danze quindi soltanto la top 3 della flop e la top 3 va bene solo le 3 posizioni va bene iniziamo dalla terza allora vi dico che è stato difficile perché nelle liste che ho fatto sia top che flop sono 3 e 3 e poi ce ne sono 2 fuori concorso nel senso che nella mia ci sono 2 che si sono distinti per meriti in un altro campionato cioè o hanno fatto cagare in un altro campionato o si sono distinti in un altro campionato però questo al massimo lo dirò dopo per stringere così non vediamo non sappiamo cosa fare medaglia di bronzo e anche qui è difficile da decidere e vi dico già subito che nella mia flop ci saranno 2 film che vi faranno incazzare come delle bestie perché precisazione sono film che io ho visto quindi non di tutti i film che sono usciti ma penso che questa sia una regola che vale per tutti quindi film che abbiamo però noi lo ripetiamo nel dubbio film che ho visto e film che mi sono o non mi sono piaciuti personalmente al terzo posto e vi faccio subito incazzare partendo subito ma proprio tantissimo io metto challengers di guadagnino vi faccio subito incazzare come delle bestie questo è proprio un colpo al cuore che mi è arrivato grave cazzo vi faccio incazzare subito ma vi spiego ma vi spiego perché non perché io lo reputi un brutto film ma siccome è la mia flop a me non è piaciuto proprio per niente ne capisco ne riconosco il valore capisco cosa ha voluto fare capisco tutto il senso del film ma per me è una cagata pazzesca è un per me assolutamente per me quindi questo non non vuole assolutamente nulla togliere a tutti i significati del film e soprattutto alle interpretazioni e a quello che guadagnino ha voluto mettere su pellicola ma personalmente io l'ho trovata una sega pazzesca nel vero senso della parola per certi versi nel vero senso della parola e per questo non è riuscito ad emozionarmi o comunque a farmi arrivare cioè il messaggio mi è arrivato ma non è stato non è stato abbastanza per me e quindi questo cioè so che è un è un'opinione forte è un'opinione su cui tanti un un po' più l'opinione però questa è la mia terza posizione ma ci piace ci piace anche ogni tanto ma chiudiamo qui direi no grazie mi ha invitato mattina Michele ora devo dire devo dire che la mia flop non è troppo cattiva se non in questa terza posizione in altre occasioni avrei messo primo questo film ma se no poi mi dite che sono troppo rompipalle ovviamente non vado a pescare madame web e altre amenità perché la croce rossa alla croce rossa sparano fin troppo quindi le mie sono più o delusioni o riflessioni sul film in quanto tale cosa rappresenti quindi inevitabilmente l'anno scorso l'anno scorso se non sbaglio dottor uomo non avevo messo barbie giusto? no non l'avevi fatto infatti è stato troppo facile bravo invece è un pochino più facile mettere al terzo posto barbie per hipster che è povere creature non perché attenzione non perché sia necessariamente un brutto film l'ho comunque apprezzato sufficientemente da non reputarlo un film insufficiente ma soprattutto dopo aver visto kinds of kindness un film che io avevo detto in automatico sarebbe stato il mio più adatto dell'anno e così non è stato pur non avendolo amato in toto secondo me l'uscita di kinds of kindness sottolinea ancora di più la natura che poi è la critica che ho sempre fatto principalmente a film di film sistematico di povere creature un film che a cui l'antimos dona un po' il suo immaginario la sua stramberia ma molto hollywoodiano e anche molto ruffiano da un certo punto di vista e a me quel film lì non convince proprio nel suo voler essere un un surrogato del cinema di l'antimos per tutti anche questo tipo di operazioni stanno sulle balle so che faccio arrabbiare molte più persone io probabilmente di Andros con Challengers ma forse è difficile però ecco diciamo che quanto meno mi sembra la mia argomentazione più coerente con le mie solite posizioni un po' impopolari poi è chiaro nel film ci sono tante cose belle scenografie costumi sono tutti bravi anche se non lo sappiamo Emma Stone ha rubato un Oscar che era di Lily Gladstone appunto lo trovo alla luce di kinds of kindness terribilmente preparato a tavolino e appunto Barbie per hipster che otto stelle come cazzo si vota su letterbox non lo so 5 su 5 su letterbox e via così ma capisco anche che è la medaglia di bronzo quindi diciamo che è una cosa ancora timida sì sì non mi piace quello che rappresenta mettiamolo così ecco bene collezionista allora no va bene io ho deciso che mi fermerò al 30 giugno quindi dal primo gennaio al 30 giugno film usciti in sala quindi non su piattaforma avido no rimando tutto a dicembre infatti voglio sottolineare vedendo anche la chat che noi parliamo di film usciti in Italia nel 2024 quindi povere creatori ci sta tutto visto che è uscito nel 2024 gennaio certo gennaio e non su piattaforma per quanto mi riguarda quindi farò semplicemente riferimento a film visti in sala quindi sia nella top che nella flop lascio fuori quello che ho recuperato o che è uscito direttamente su piattaforma ok al terzo posto per io ho fatto fatica a trovare tre che non mi sono piaciuti veramente per niente cioè da zero che non siano vabbè sei stato fortunato cazzo sono stato fortunato sì sono stato fortunato parecchia roba l'ho schippata e quindi al terzo posto metto il colore viola che è un musical insipido che per carità avrà pure un grande successo di Broadway alle spalle però non sa quale strada prendere a livello di messa in scena perché vuole fare troppe cose vuole anche ricalcare il modello Spielbergiano un musical che ha goduto attorno a Natale in America di un buzz di una notorietà di qualche giorno perché magari ha intercettato non so che tipo di gusto poi la cosa si è sgonfiata grazie al cielo quindi non è stato neanche un fenomeno popolare quando mi riguarda neanche i numeri musicali mi hanno coinvolto il musical mi fa impazzire mi piace tantissimo come genere quindi non sto facendo assolutamente un discorso che riguarda il genere anzi proprio come genere il colore viola l'ho visto molto fiacco molto stantio molto ha sofferto tantissimo anche nelle fotografie e nelle performance musicali quindi per me è un musical dimenticabilissimo infatti mi ero quasi dimenticato di averlo visto come peraltro il primo della mia flop sono dovuto andare a ricontrollare di averli visti questi film perché non me li ricordavo quindi un film assolutamente sconsiliato cioè trascurabile finora tre titoli diversi poi cercheremo di capire quali ricorrono tra avatar allora io a differenza di Michele un po' sparerò sulla croce rossa ma perché sì avevo quei titoli da mettere per provocazione però proprio perché in quanto provocatori c'erano delle cose belle per cui dico va bene tutto però in top 3 mi sembrava un po' cattivo e quindi andiamo proprio giù sul sul classico che molti probabilmente metteranno anche più in alto lo metto al terzo solo perché la visione in compagnia mi ha divertito e sto parlando del capolavoro snyderiano di Rebel Moon ovvero perché a cacchio parte 1 o parte 2 ma è uscito al cinema Rebel Moon no no ma sei tu che hai deciso di non mettere no 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 non sto chiedendo perché magari no è vero che la parte 1 era l'anno scorso era l'anno scorso e tanto la parte 2 per certi versi è anche peggio quindi facciamo la parte 2 ma solo per certi versi esatto perché allora va bene che io spesso sono come cioè sono contrario al al di un parte 2 di 2009 però ragazzi c'era Rebel Moon parte 2 quello è 120 volte peggiore cioè lì è proprio allora ok leggi un manuale di regole della narrazione ok facciamo l'esatto opposto con una serie di cazzate una dietro l'altra film allungato a merda senza motivo con io avevo detto dai almeno qui si vede in un cinema patinato qui vediamo per una volta il sudore ma ripensarci bene è solo sotto testo involontariamente omeerotico perché a Snyder piace vedasi i falli volanti di Man of Steel il momento tavolo in cui tutti si raccontano le cose è da denuncia penale i violinisti che suonano la colonna sonora dell'attentato e soprattutto le ormai leggendari astronavi a carbone che volano le nostre gioie che dire un film sbagliato sotto ogni punto di vista l'unica cosa è che qui c'è stato impegno nei due dopo non ho visto neanche l'impegno e quindi sono anche peggio qui almeno sei impegnato per impegnare quanto vuoi ma se fai cagare fai cagare non è che c'è molto per cui difenderti io proporrei il noleggio di un piccolo aereo privato per andare a Los Angeles è in programma una proiezione delle due di Retroscut alla presenza di Zack Snyder io andrei ragazzi subito no io sapevo che il primo agosto mi pare l'Egyptian Theater di Los Angeles c'è anche però una sorta di maratona retrospettiva di tutta la sua carriera è la Snyder Cut c'è la versione stesa di Watchmen ci sono le diretti è praticamente è quello che fa lui ogni anno a casa sua ma non c'è la Snyder Con io sono tentato andiamo andiamo io vengo Victor allora io sui flop allora potevo effettivamente sparare sulla croce rossa ho preferito non farlo più o meno nel senso che io a difenza di Adrano inserisco anche i film usciti in sue piattaforme perché per me un film è un film quindi per me non cambia il senso della cosa e quindi su uno è sparare sulla croce rossa ma non potevo esimermi sul terzo no il terzo posto rappresenta un film che non è magari brutto in toto ma che a me a Delusa ha fatto anche incazzare tantissimo che rappresenta un po' il classico blockbuster che per me non dovrebbe esistere in generale ed è Godzilla X-Cog io l'ho odiato io l'ho detestato non lo sopporto per me è stata una delle delle cose che mi hanno dato più fastidio ovvio ci sono cose che sono più brutte tipo l'ultimo esorcismo la profezia del mare però quelli non li ho messi perché vabbè allora metti solo quella roba lì se devo cercarle uno a livello di film molto chiacchierato che è anche andato bene che proprio non mi è andato giù Godzilla X-Cog perché è un film secondo me realizzato senza il minimo impegno a me dà fastidio quando un film incassa tanto poi magari arrivano film decisamente migliori anche blockbuster non se li incula nessuno però quelle robe lì sì quelle robe lì le vanno a vedere tutti incassano tantissimo e sono film che non sono stati proprio neanche scritti cioè è anche un film che ruba a piene e mali da altri blockbuster c'è il personale lo star lord di Temu che veramente se potevo sprangarlo lo facevo per me è proprio quello che è ciò che a volte i blockbuster incarnano che non dovrebbe esistere in un blockbuster proprio quella roba rubiamo a piene mani arriviamo all'ultimo e facciamo lo scontro finale così a babbo morto Godzilla non serve un cazzo per il 90% del film è proprio un problema di scrittura secondo me e quando si premiano film scritti così male a me girano veramente tanti coglioni ma proprio tanto perché vuol dire proprio perché c'è gente che parla male del Godzilla di Edward ma guarda il Godzilla di Edward però attenzione il Godzilla di Edward è quarto potere in confronto a Godzilla X-Kong attenzione mettiamola anche in più spettiva mettiamola anche io è un altro film è un altro film è un altro film avessi scritto i personaggi Edward per dire se non mi avesse messo a lonti d'angelo di cui ne frega di meno di una roccia che cade da una montagna siete delle orribili merde umane lasciate però sono riusciti a far di peggio con Godzilla X-Kong è come se il soldato di Manus One fosse morto a metà film ok stavamo seguendo lui chi segua adesso uguale il personaggio migliore del Godzilla di Edward è Juliette Vinoche che muore al minuto 7 probabilmente e l'altro è Cranston che muore al minuto 30 prima che possa succedere qualcosa di effettivamente non vi meritate dei film di Kaiju non ve li meritano ma guarda no ce ne meriteremmo infatti quello non è un bel film di Kaiju comunque al di là di questo per me Godzilla X-Kong ragazzi sappiate che io non mi sognerei mai di fare il fan che dice che gli altri non capiscono un cazzo però in questo caso lo faccio lo avete capito un cazzo ve lo dico proprio allora preparati io sono fierissimo di non aver capito un cazzo di quel film quindi per me Godzilla X-Kong vuol dire che sono ancora sano di mente Godzilla X-Kong per me è un film assolutamente a terzo posto mi spiace ok uomo allora io mi limiterò anch'io al cinema non ho visto un sacco di cose anche molto brutte probabilmente quindi mi sono salvato parecchio probabilmente a differenza di molti di voi sarò un po' provocatorio anch'io soprattutto per questa terza posizione un po' perché ho faticato in effetti a trovare una terza posizione so che sembra sembra strano ma veramente ho evitato tanta roba esorcismi horror cose il film della figlia di Shyamalan ho evitato tantissima roba quindi è stato difficile trovare cosetto allora provochiamo un pochino vado un po' più sull'aspettativa sul fatto che sono uscito dalla sala dicendo boh la prima parte mi aveva soddisfatto sta parte 2 dove ha portato dopo 6 ore di film e visto che non si parlerà e non lo metterò di Horizon che invece secondo me può avervi annoiato ma in 3 ore ha tirato fuori tantissimo non è un brutto film metto Dune 2 Dune Part 3 oh giusto perché allora per me a livello anche di fotografia di messa in scena ci sono delle cose straordinarie ma veramente straordinarie perché Villeneuve mi è sempre piaciuto la prima parte ripeto a me era piaciuta però avevo immaginato ok di fatto hai passato due ore e mezza a imbastirmi tutto un immaginario a darmi dei suggerimenti su delle cose vedere il secondo film la cui prima parte è quasi un remake del primo che mi rispiega le cose mi rimostra le robe e poi finire un po' così come la sega di prima però subito non è un'eiaculazione un po' un po' rapida mi ha lasciato un po' così quindi una modalità mai sentita sinceramente ci volevo ci volevo io invece voi l'avete schivato l'avete evitato ma il film della figlia di Shyamalan ce lo metto non avevo dubbi non avevo dubbi intanto saluto il signor F salve signor F ma salve salve scusate il ritardo tra poco la sentiremo io la medaglia di bronzo della palta la conferisco a The Watchers un film veramente brutto tutti i difetti di Shyamalan padre moltiplicati per mille in una sceneggiatura senza senso con degli attori diretti malissimo monoespressivi non si capisce dove la trama voglia andare a parare ci sono frangenti involontariamente comici che forse neanche è maccio capatonda vorrebbe anche avere la pretesa di trasmettere un messaggio importante io questo posso apprezzarlo però non si fa così veramente devastante c'è stato di peggio ma c'è stato anche molto meglio di The Watchers non capisco non capisco perché la figlia di Shyamalan abbia voluto fare un film che è una copia brutta di alcuni film l'errore è quello secondo me guarda che se tu guardi ci sono delle cose che sono prese da Science le regole che sono palesemente riprese anche nella messa in scena da The Village è quella roba lì c'è una scena che è identica va bene il film è finito c'è un altro colpo di scena ancora più brutto del precedente aspetta adesso è finito no non abbiamo finito quei colpi di scena orribili e ridicoli te ne spariamo altri ma non solo poi fa la cosa la cosa peggiore che può fare un film cambiare genere all'improvviso senza motivo porca è una roba proprio brutto il mondo veramente mamma mia detto questo va bene tutto tranne il termine i difetti dei film del padre che possono essere compensati da tanti pregi la figlia quei pregi non li ha per ora vedremo successive performance signore F il terzo è il tuo posto la medaglia tu stai dicendo comunque che la figlia forse non ha talento attenzione forse ma non è vero perché su Servant è stata molto brava allora si rifarà magari può arrivare anche in televisione non è che ci affreggiamo per questo magari non lo so ma infatti io vi dico che per la mia flop ho cercato anche di perché sapete non c'è roba dove mi sono veramente incavolato pesantemente ho cercato sapientemente di evitare esorcismi The Watcher anche un po' l'imbeccata me l'avete dato voi quindi la colpa è vostra però io sono d'accordo con Michele e metto poveri creature che l'avevo dimenticato perché il mio cervello si si vi dico è la prima doppietta è vero ma vi dico solo per tanto così non è al secondo posto tanto così perché più o meno nella mia testa mi ero già fatto un'idea del film ok l'ho cominciato a guardare vedo Diffo dico mamma mia e credo che sia la cosa migliore del film poi alla fine dopo mezz'oretta mi aveva già perso comincia a diventare ridondante forse alcune cose rimango anche forse polemico io stesso ho cominciato a fare polemica col film quindi è una cosa che non si dovrebbe fare ci sono ci sono stati dei momenti che dico no mi sono proprio un po' mi ha dato fastidio soprattutto poi arrivati alla fine dove anche il minutaggio sono proprio sentito pesantemente dico vabbè non sono riuscito ad abbracciare questo fenomeno tiktokabile con tanto di balletto ed è il motivo per cui anche il covid non ho visto ancora kinds of kindness perché quando è arrivato il il trailer e c'era sempre il mastone che ballava spastica immaginatevi io con la mia esperienza con povere creature però voi mi avete detto guarda che questo è un lantimo c'è un po' più e già lo recupererò anche se bisogna dire il ballo della stone è effettivamente gratuitissimo boia ci ha messo molto è proprio il ballo messo lì per dai riprendilo e mettilo su tiktok la roba in realtà è stata lantimo se le ha detto fai un balletto e lei quello è venuto fuori io ho riso tantissimo anche perché considerando quello che succede dopo è un serbo di tiktok si si proprio è giovane